Scomparsa 2 Scomparsa 2, novità e anticipazioni sulla seconda stagione Scomparsa 2, la seconda stagione ci sarà. . Dopo il grande successo di Scomparsa, i telespettatori già si chiedono se ci sarà o meno una seconda stagione. La serie televisiva con Vanessa Incontrada ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori per sei puntate. . Un giallo che ha appassionato il pubblico e che potrebbe avere un seguito, cosa potrebbe succedere a San Benedetto del Tronto? Cosa potrebbe succedere nelle vite dei protagonisti? A deludere un po' le aspettative le parole di Tini Andreatta, direttrice di Rai Fiction, che ha annunciato che la serie non si sarebbe conclusa con un finale aperto. . Non dovrebbe, quindi, esserci una seconda stagione per la serie Scomparsa, anche se lo share è stato molto alto per tutti gli episodi, nonostante la concorrenza del grande fratello VIP durante le prime puntate. . Scomparsa 2, Vanessa Incontrada in Non dirlo al mio capo 2. . La Rai cambierà idea o si lancerà in progetti nuovi? Una cosa è certa, sicuramente rivedremo i protagonisti della serie televisiva in altre fiction. . Vanessa Incontrada sarà sicuramente in Non dirlo al mio capo 2, insieme all'uomo delle fiction Lino Guanciale. . Giuseppe Zeno molto probabilmente farà parte del cast di Il Paradiso delle Signore 3. . La terza stagione della serie TV ambientata negli anni 50 non è ancora stata confermata, ma in molti hanno chiesto a gran voce un seguito, tanto da lanciare una petizione online, Vogliamo il Paradiso delle Signore 3 con Pietro Mori Vivo che ha già raccolto 6.716 firme. . Scomparsa 2, le novità. . Al momento, quindi, non sappiamo se ci sarà o meno Scomparsa 2, ma sembrerebbe che le possibilità di una seconda stagione siano davvero poche. . . Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai vertici della TV pubblica, ma sicuramente rivedremo presto Vanessa Incontrada in Non dirlo al mio capo 2. . La fiction, infatti, dovrebbe andare in onda in primavera. . . .